Cioè, allora vi dico, voi a casa, cioè, voi avete un ospite, un amico, oppure, capite, non lo conoscete bene, però è un amico di un amico, ok? Voi a un certo punto uscite dal bagno la domenica mattina e lo vedete in cucina di casa vostra, appollaiato, rosso, rosso, cioè come reagireste? Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti alla puntata numero 146 di Tintoria, applauso. Vamos! Alla mia destra, alla co-conduzione, Stefano Rapone, ragazzo molto bello. Ciao. Eccolo qua, ci troviamo sempre a Snodovia del Mandrione, coprodotti da The Comedy Club. Sempre loro, ecco sì. I credits li abbiamo messi da parte. Come stai? Eh, bene, bene, abbastanza bene. Abbastanza bene. L'ultima dell'anno, l'ultima registrazione dell'anno. Tu stai bene? Io sto abbastanza bene, c'ho un po' di mal di testa perché vengo da un raffreddore che mi ha lasciato una cosa, che mi sono autodiagnosticato una sinusite. Io c'ho un po' di acidità, è quello che ci penso, perché mangio qui al Mandrione da una settimana, ormai sono... Eh sì, che si mangia bene, però... Ci mangio tutti i giorni, non va bene. Tipo super size me, però... Soprattutto all'età di Stefano, che ricordiamo, ha compiuto da poco 64 anni. Certo. Questo è importante. E vabbè, che programmi hai per le feste? Per le feste. Poi quando esce questa puntata... Le feste sono già finite. Sono già finite. Sono già finite, sono state delle belle feste. L'abbiamo già passate. Non è successo niente in questo periodo di festa. Ora siamo a gennaio inoltrato, quindi non... Tutto a posto. Tutto regolare, nessuno. Vediamo l'ora che inizi la primavera. Sì, sì. No, ti dico io... Io so contento che arrivano le feste. Sì. Ma il Natale comunque sia bello. Il Natale. Capodanno. Tu hai tradizioni delle festività natalizie? Ma non ho ancora neanche fatto l'albero. Vabbè, sei in tempo comunque. Sì, sì. Ci sta. Tu fai... Grazie per avermelo visto. Ok. Guarda, io in realtà a Natale non ho grosse tradizioni. E a Capodanno ancora non sappiamo che fare. Quindi sto un po' in difficoltà. L'unica tradizione di famiglia che ho è la Befana. tutti gli anni, con la famiglia, andiamo a Budapest. Ah, sì? Sì, sì. La Befana a Budapest. Sì. Non ce l'hanno neanche mai fatto un film con Bolli e De Sica. No, non ce l'hanno fatto. Però hanno fatto un... Non alla Befana, però. Natale a 5 Stelle era ambientato a Budapest. Non vorrei sbagliarmi. E proprio per quello noi andiamo tutte le Epifanie. Ah, ok. Sì, da quando hanno fatto Natale a 5 Stelle, con la famiglia andiamo tutte le Epifanie a Budapest. Budapest è molto bello. Il 6 gennaio è bello. Poi quest'anno comunque sto bello carico perché... Tu sai che io non gioco d'azzardo? No, certo. Perché hai smesso, sì. Ho smesso, sì, sì. C'ho un mio monologo su YouTube. E quindi basta, no? Però quest'anno mi hanno regalato i biglietti della lotteria. Ah. E me li sento caldi. Secondo me sono buoni. Sì, sì. Secondo me il 6 gennaio... Perché la lotteria poi fanno l'estrazione del 6 gennaio. E quindi si festeggia a Budapest con la famiglia. Però, scusa, tu sei a Budapest? Sì, sì. Come fai a vedere? Perché? Dove la fanno? Eh, sul Rai 1, sulla TV italiana. Come fai? Cacchio! Se tu accendi... Porco 2. Se tu accendi su 1... Non ci ho pensato. Epifania rovinata. La festa più importante. Sì, sì, sì. I miei genitori saranno distrutti perché sono i biglietti buoni. Eh, no, Budapest non si vede, Rai 1. Che c'è? Ma scusa. Ma che stupido. Ma basta che uso NordVPN. Ah, vedi. Anche perché che ci vuole usare NordVPN? Basta un click. Basta un click. Ma allora... Uno solo. Meno male. L'epifania è salva. Ma scusa, mi ricordi il link che non mi viene in me. Il link è nordvpn.com slash tintoria. E così c'ho NordVPN pure con un eccellente sconto. Che consiglio a tutti. Se voi fate l'epifania dove la fate? A Marrakesh? A Dusseldorf? Dove la fate voi l'epifania? Insomma, secondo la tradizione italiana. date su nordvpn.com slash tintoria. Trovate il link in descrizione. E vi potete vedere l'estrazione della lotteria italiana. Quest'anno 5 cucuzze. 5 tucani. 5 pippi. Sì. 5 milioni. Quindi basta andare su nordvpn.com slash tintoria. 5 milioni è quanto ci paga NordVPN per fare questi spot. Questa la teniamo perché è vero. Per una volta hai detto la cifra esatta. 5 milioni ogni 5 puntate. Esatto. Puntate una sola p. Eppure... Eppure questa ce la siamo tolti. Eppure questa ce la siamo tolti. Ce li siamo guadagnati. L'ultima dell'anno. Sì, sì. Questi soldi. Non è certo grazie a Budapest che siamo arrivati a fare 146 puntate. 6. Non è certo grazie ai soldi della lotteria perché ancora non li ho vinti. Però dopo poi abbiamo svoltato. Come abbiamo fatto ad arrivare a 146 puntate? Neanche grazie a noi. Men che meno grazie a questo pubblico. Anche se... Anche se... Ah, giusto. Esatto. Perché il pubblico che non ci ha fatto arrivare a 145 puntate, questo è sicuro, ci ha fatto un bellissimo regalo che io adesso faccio così e lo faccio vedere alla telecamera. Questo come si legge? Art 10 Don, Done. Ci hanno fatto sta copertina di un fumetto con me e Stefano. C'è anche un terzo personaggio. Poi pubblicheremo la cosa su Instagram e vedrete qual è. C'è anche una carta di Dragon Ball di Stefano Rapone. Fortissimo. T'hanno fatto troppo forte. Scusa, ti leggo la tua carta di Dragon Ball. Io sono forte comunque. Sì, sì, no. Ti leggo la tua carta di Dragon Ball. Io non so i parametri degli altri personaggi. Però Rapone ha attacco 100, difesa 80, punchline 120. Livello alto. E poi c'hai mossa speciale Apologia, più 100 sull'attacco. Certo. Tra l'altro mi hanno mandato una foto di una cosa che esiste e sta anche su Instagram, si chiama Rapologia. È una cosa tipo di rapper che difendono il rap, però si è creata questa crasi con... Tra Rapone e la sua attività preferita. Esatto. Come ci ricorda la carta sul retro di Stefano Rapone, perché dice inneggiando all'apologia crea contenuto. Ah, vedi. Farà la prossima stagione di LOL. E questo è vero, l'ha detto la carta, ste mi raccomando. E poi ci sono io con la maglia della Roma. Mi hanno detto, sembri Cufré. Ci sono rimasto male, sono sincero. Salutiamo Leo Cufré. E poi un santino di Francesco Totti, che è questo, vabbè, tutto a posto. Quello sì. Ovunque proteggimi. Quindi, non è grazie neanche a Totti, se siamo qui. Un po' è grazie a Totti. Un po' è grazie a Totti. Se tutti siamo qui. Ok. Ma soprattutto... Soprattutto è grazie agli ospiti. Quindi, forse, senza ulteriori induggi, io andrei a presentare l'ospite della puntata numero 146 di Tintoria. Signore e signori, per favore, un grande applauso a Pietro Sermont. Benvenuto. Ciao. Pericoloso. Qua è difficilissimo. Possiamo. Buonasera a tutti. E bevamo. Buonasera. Benvenuto. Ho bevuto. Hai bevuto, sì. Hai bevuto. Era un test, infatti. Avete fatto bere. Questo, però, si può fare. Anzi, se in qualsiasi momento vuoi un'altra cosa da bere, puoi chiedere e ti verrà dato. Quindi, se dopo questa birra dici, sai che c'è? È ora di passare al gin tonic. Non c'è problema. Pronti. Poi il podcast decolla. Benvenuto. Benvenuto a Totti. Grazie. Come sta? Io non sapevo che ci fossero delle persone. Invece abbiamo fatto... Non c'erano un genere. Sono tante. Se no... Sono tante. Speriamo, insomma, di farci. Ma sì, dai, dai. Ce la passiamo. Come va? Come stai? Ma, felice di stare al Mandrione. Ti piace questo? Ma il Mandrione mi ricorda i tempi antichi del medico in famiglia, Cinecittà, di quando passavo qua, che non lo conoscevo, immaginavo dei grandi delitti, ma non con le armi da fuoco. Qui erano proprio delitti di lama. Sì, sì. Come... Cioè, quasi sinceri, delle spanzate. Eleganti. Eleganti. Briganti. Insomma, questi sono i ricordi che ho adesso. Ancora succedono. Saranno avvenuti questi delitti, però al Mandrione... Stanno avvenendo. Però nessuno canta, mi piace questa cosa, che nessuno lo dice e quindi poi non vengono fuori. No, assolutamente. Tutto si risolve. No, ma mi avete detto che è chiusa, diciamo, da Cinecittà, quando riprendi per cose non si può più accedere dalla porta. Facciamo a Ransenna, che è un peccato. Questo è un dolore. Come torno a casa io? Cioè, adesso, a parte scherzi, se sono venuto in motorino, dove vado a finire? Tu adesso... Io vado verso l'E di Roma. Tu adesso sì, poi vai o a sinistra e poi subito a destra e andando dritto sbuchi, diciamo, Tuscolana sul retro. Ok, via della Marrana. No, no, anche molto prima. Cioè, proprio sbuchi a Tuscolana, diciamo, altezza Furio Camillo. Ah, perfetto. Io a Furio Camillo capisco. Oppure, se uscendo da qua vai a destra, poi te ritrovi a Piazza Lodi. Ah, beh, allora è fatta. Sennò chiedi a qualche brigante, ci sarà sicuramente aiutare. C'è anche un mito su Via del Mandrione, che non ci sono le guardie, si dice, non ti fermano a Via del Mandrione. Quindi, qualora qualcuno, sbagliando, avesse bevuto, poi se passa a Via del Mandrione non ti fermano. No, perché non ci stanno... Perché a me mi stanno fermando tantissimo sto periodo. Ah, sì? Sì. È una cosa incresciosa. Non so da cosa dipende. Io ho un motorino anonimo, bianco. Ti fermano in motorino? Sì. Mazza. Io la macchina non so cosa sia, ma io ho un sim. Sapete cos'è? No. Perché a me mi hanno rubato il motorino tre, quattro anni fa. Me ne sono affittato uno al volo perché mi serviva quei giorni da CULTRA. E questo motorino bianco brutto, siccome io ho questa cosa che non voglio perdere tempo a legare i motorini, per cui il primo motorino che c'avevo me l'ero fatto scenografare da uno scenografo che saluto, Pachi Meduri, che ci ho messo due giorni a fargli spiegare che non stavo scherzando perché era una Vespa bianca, tipo bidet. Io glielo ho data e gli ho detto tu adesso devi farci passare 60 anni, tipo scopone scientifico. Voglio la ruggine. Lui mi ha fatto un capolavoro, ma un capolavoro, cioè era una Vespa dei 90 anni, solo che non funzionava bene la batteria, per cui l'ho portata subito dal meccanico che mi ha guardato e mi ha detto ho capito che non funziona, buttala. Quando ha aperto la sella e ha visto tutto nuovo, cioè si è spaventato, mi ha detto ma com'è potuto succedere questo? Cioè com'è possibile che sia successo? Hai un'idea mia, gli ho detto. Allora per non perdere tempo, stavolta da CULTRA, quando gli ho restituito sto motorista, ho visto il deposito, ce n'erano 3.000, mi hanno detto guarda se mi dai 500 euro te lo do così usato e io ho sto gioiellino ma mi fermano sempre. Che strano, chissà perché. Ma è incredibile, è incredibile. Secondo me è per l'orecchino. Ma non si vede perché io ho scoperto questa cosa adesso, quest'inverno, mi hanno regalato un piumino bellissimo col cappuccio che io metto sotto il casco, per cui non ho più bisogno neanche della sciarpa perché non si vede niente. Cioè è proprio una cosa che c'hanno col motorino... Col SIP. L'anno scorso a Natale mi hanno fatto una cosa brutta, una vigilessa brutta, di sadismo. Dovevo andare a fanproino, mi ha preso proprio de petto, mi ha chiesto cose impossibili, mi ero voleva sequestrare, mi ha fatto andare lì la mattina dopo. L'ho mandato a fanculo, proprio glielo ho detto, gli ho detto buone feste. Non si dice, non si dicono queste cose. Al mandrione sì però. Al mandrione sì e qui non verrai fermato. Al mandrione è il mio inconscio. Sì, si può fare, qui al mandrione... Si può parlare di cose brutte. Certo. Soprattutto. Noi però, qui la professionalità, noi invitiamo gli ospiti e c'è una domanda che facciamo spesso agli ospiti che provengono dal mondo dello show business, la domanda è come hai cominciato, che è una domanda banale che però a noi interessa sempre perché il percorso di ognuno è sempre diverso in questo settore. E a te pure volevo fare questa domanda, ma nel tuo caso è un po' diverso. No, perché tu hai cominciato da calciatore, cioè te da giovane. Ah certo. Tu giocavi a calcio, non è che dici giocare a calcio, tu giocavi nelle giovanili, niente un po' di meno che la Juventus titolino. Sì, ma quello è stato il momento più basso della mia carriera. La Juventus è il momento più basso. Beh, perché in realtà là mi è venuta la pubalgia, giocavo poco, stavo di cattivo umore. In realtà il momento più alto mio è stato al Tor di Quinto, dove giocavo anche con Marco Materazzi, insomma il Tor di Quinto, il settore giovanile romano di quegli anni era una squadra forte. Che età al Tor di Quinto? Che età? A che età? Quanti anni avessi tu? Ah no, io ho fatto dagli esordienti, ho fatto tutta la trafila fino alla promozione, poi mi sono rotto tutto, sono andato a Teramo, però insomma lì c'era gente forte che giocava. E scusa, in quale momento sei finito alla Juve? Perché? Io sono stato dall'89-90, 89-90. E quanti anni avevi? 17. 17. Quindi a 17 anni tu comunque si è a giocare prima la Juventus. Sì, poco però là, mi sono ammalato subito. Subito, perché poi tu nella Juventus oltre sei pure tifoso, cioè tu tifi, sei fottista. Sì, ecco quello è stato il momento in cui io ho desiderato che andasse in B e poi è successo peraltro per cui io me la sono tirata da solo. Sì, però quando quelle cose non vanno bene con gli allenatori, con la dirigenza, quando vuoi solo litigare perché insomma non capisci cosa si muove dietro di te, io diciamo lì ero molto polemico. Il mio allenatore era Nenè, Cucureddu e Nenè. Nenè era un giocatore brasiliano che poi è morto, che ha vinto lo scudetto col Cagliari. e lui faceva questa cosa che ci buttava sempre l'alcol sulla maglietta perché lui faceva queste macumbe sue, mangia la cibia, mangia la foglia, sta cosa e tu entravi in campo, facevi l'appello con sta cosa rossa di alcol sulla striscia bianca per cui entravi un po' sbronzo e sembrava che ci avessero sparato, cioè entravamo sempre con sta cosa che poi colava. lui diceva questa cosa, non ci faceva giocare a carte e a boccette in ritiro perché seminava zisagna, diceva che si semina zisagna, non semina zisagna, era un tipo strano, aveva una 124, ve la ricordate la 124? No, no. È la macchina che va qui al mandrione e ci sono tutti da 124. Ci sono tutti da 124. Scusa, come sei diventato tifoso della Juve? Per come il 90% penso dei tifosi di tutto il mio padre. Io mi chiamo Pietro per, qui sono tutti giovani, ma io mi chiamo Pietro per un centravanti della Juve dell'inizio degli anni 70 che era Pietro Anastasi, che era peciuzzo e mio padre mi ha chiamato così, lui era malato, poi si occupava proprio anche d'altro nella vita, ma lui era proprio malato, io aprivo i cassetti, gli armadi e lui disegnava, anche abbastanza adulto, cioè non era un ventenne, c'era questo difetto. Disegnava cosa la Juve? Disegnava scudetti, i gol, io mi ricordo nelle ante degli armadi dei gol disegnati, capisci? Bellissimo. Poi era pazzo, per cui io sapevo tutte le cose a memoria, tutti i minuti, io adesso ancora ti potrei rifare dei gol dell'83-84 con i minuti, te li posso mettere in scena, non lo farò, ma insomma, perché poi il calcio si è sposato con forme di autismo che avevo, frequentavo da bimbo, per cui era uno sfogo perfetto. Eh sì, perché ti puoi chiudere con un miliardo di numeri. E senti, quindi tu da tifoso della Juve a un certo punto ti chiamano, che ruolo giocavi? Io trequartista. Trequartista, quindi tu sei forte a pallone, cioè ancora adesso? Adesso no, adesso io non gioco da tipo 12 anni perché non ho il legamento rotto della caviglia e se non sei allenato devi fiammare subito, io in realtà ho fatto l'attore perché volevo giocare la partita dal cuore, cioè non è che adesso sto muovente perché ho sentito che dentro me stesso si muoveva, no, io volevo fare le partite negli stadi in cui non sono riuscito a farle da giocatore. Anche quello è tramontato presto e soprattutto giochi di solito con dei bestioni non allenatissimi per cui ti fai male. Poi io soprattutto giocavo molto con Luca Zingaretti che è uno che poteva fare il giocatore, che è uno che picchia come Fabbro, per cui tutte le partite di beneficenza con le guardie svizzere, con qualche ONG e poi finivano sempre in rissa, sempre, che era una cosa umiliante perché tu vai lì, fai le cose con i bambini, fai le foto e cose e poi c'è uno spettacolo ignobile in campo perché Luca comunque, noi abbiamo fatto a botte con la Lazio Femminile al Flaminio. Adesso, perché mi viene in mente che ieri ho visto Luca, no, era una cosa, mi ricordo una partita a Perugia contro i figli di Gaucci. Siccome Luca e anche io, e c'erano altri due o tre che giochicchiavano, e poi c'avevamo attenzione, io ho continuato a giocare nella rappresentativa degli attori solo perché l'allenatore era Giacomino Losi. Giacomino Losi è una delle persone più belle, intelligenti, affettuose, cioè veramente con le gambe da gauscio. Lui aveva proprio le parentesi e a 80 anni lui ancora giocava con noi e aveva la pazienza di allenare, già gli attori sono insopportabili, l'attore che gioca pure a pallone e pensa di essere pure bravo è la feccia dell'umanità, cioè è proprio una roba di ego, proprio insostenibile e lui aveva la pazienza e lui quando stavamo rispettati prima delle partite di beneficenza diceva io sono qua per vincere, ce lo diceva sempre e Luca lo prendeva molto in parola per cui quando ci rendevamo conto che per esempio la rappresentativa dei sindaci di De Cosenza che per comprare un'ambulanza tu andavi là e loro avevano 3-4 amici che giocavano capito in C2 e cosa, Luca rosicava per cui appena poteva faceva l'entrataccia da dietro e lì naturalmente gli animi si scaldavano e sempre con, dai ragazzi che vergogna, c'è gente che vuole che stanno i bambini, però comunque era tutto così, era tutta così, la beneficenza per me, il calcio per cui ho interrotto anche per la fedina perché era una cosa proprio che mi, uno ha un'immagine capisci e poi ho fatto per 10 anni non ho giocato, poi mi ha chiamato tipo 4-5 anni fa Tardelli perché allenava una delle due squadre degli attori diciamo alla partita del cuore e io là mi sono ricomprato degli scarpini per cui vesciche allucinanti, ho giocato, ho fatto un allenamento e dopo 10 minuti c'era Sorrentino in porta, quello del Chievo che aveva appena smesso, dopo 10 minuti stavo a 2-3 metri fuori dall'area e ho detto dai, ok, vai, calcio e in realtà la palla stava andando sotto al 7, lui fa una paratona, un portiere normale non l'avrebbe presa ma io sento una scarica che mi parte da qua e mi arriva fino al collo e rimango praticamente paralizzato per 3 minuti mentre Gianni Morandi, 95enne, a rava il campo, io facevo così e dicevo ma come fa? E io che zoppicavo c'era Diego Bianchi e quella ho detto ecco qui secondo me è il momento proprio basta, è il momento, è il momento basta, è il momento, è il momento in cui hai detto alla fine sotto, però ancora me li sogno i gol, cioè comunque io credo che calciatore ci muori, ma infatti io questo ti volevo chiedere perché comunque tu hai... guarda ti posso dire questo perché la mia compagna che stasera poi capirete perché non mi ha inventato una scusa per non venire perché poi diciamo l'innesco di questo incontro è una cosa... ci arriviamo, ci arriviamo esatto, poi capirete perché mi ha inventato una scusa pure male, cioè non si è neanche... non è anche voluto dire una cosa che ti dico bene che ci credi, no no voglio proprio che tu non ci creda... posso dire che ti ha detto... che è l'ultima sera in cui le sue amiche si possono vedere prima di Natale perché poi hanno tutti impegni che non è per niente, era solo perché sapeva diciamo qual era l'innesco, ma una quindicina di giorni fa ho sognato e glielo ho detto appena sveglio e lei ha avuto paura ma gli ho detto amore ho sognato e vorrei che ci fosse scritto questo, anzi lo dico pubblicamente sulla mia lapide ho sognato, Vieto Sermonti, 71, boh, non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui, ecco, questa l'ho sognata veramente e adesso vi rendo partecipi di questa cosa perché in realtà racconta un po' l'esistenza, ci stanno tante cose in cui io mi riconosco, bellissima, perché comunque da trequartista e facevo gol e cose comunque a me interessava che vincesse la squadra, io risultavo quando segnavo ma anche quando segnavo i compagni, per cui c'avevo questa dimensione, poi c'è la parola compagno, ci stanno tante cose dentro a quella roba là, io giocavo a Tor di Quinto, il presidente del Tor di Quinto era il capo del servizio d'ordine di Berlinguerre, per cui c'avevamo uno sponsor dell'unità, io ero ragazzino, non capivo niente, però ci odiavano, cioè ci odiavano quando andavi in giro, non ci volevano bene e lui aveva questa cosa che io ero un po' capricciosetto e pigro, per cui lui quando faceva la formazione, stava negli spogliatoi e diceva allora tu dava le mansioni, tu stai a destra, tu stai in mezzo, poi diceva poi date la palla a Pietro, ma questo gli costava, perché lui comunque, capito, aveva l'idea del collettivo, date l'idea a lui e lui mi aveva fatto capitano perché ero un po' il cazzo all'arbitro sempre, era insopportabile, io non so come, mi hanno espulso varie volte, l'ultima partita che ho giocato seria, mi hanno espulso, il signor Sermonti può andare a farsi la doccia perché avevo consigliato al guarderino di inserire la bandierina nel culo, aveva ragione contro la Spes Ponte Sacro, bei tempi, e lui aveva, si portava dei sanpietrini, lui era cattivo, era un tersino, aveva giocato a Avellina, Ascoli, era poco cattivo con i baffoni, e lui aveva un sanpietrino che si portava perché appena io parlavo troppo con l'arbitro, lui mi faceva vedere il sanpietrino e due volte me lo ha tirato in campo, lui è stato squalificato per tre anni, ma non per questo, anzi era un momento di civiltà, lui è stato squalificato perché noi avevamo, lui aveva dei cani lupo, giganteschi, che si chiamavano Tor di Quinto, c'è un documentario che uscirà su Massimo Testa in cui lui racconta anche le mie vicende sportive, ed è bellissimo perché lui racconta e ogni 20 secondi parte una madonna, ma proprio stupendo, e lui aveva questi tre cagnoni, dei grizzi, dei colli, io mi cagavo sotto, ogni volta andavo agli allenamenti mi pregavo, e poi se ne prese altri due, Raissa e Mikhail, ok? Cosa fece con questo? Lui aveva questa caratteristica, anche dai sordienti, cioè c'hai 11 anni, 12 anni, lui non sopportava le ingiustizie arbitrali, per cui tendeva a chiudere gli arbitri, che poi erano dei ragazzini dei 16 anni, dentro lo spogliatoio con i cani fuori, e questo una volta è stato scoperto, diciamo, e questo ha implicato delle sanzioni. Anche un anno per cane pastore, giustamente. Cioè, chiunque, io non so se ha giocato a pallone a Roma, che aveva il calcio giovanile, poi ho giocato anche, quando ho smesso, poi sono tornato con un gruppetto di amici, avevamo 23, 24, io per 4 anni non ho più giocato, ho avuto il rifiuto, anche perché ti senti un vecchio, tu pensi, sai di fare quello nella vita, poi a 19 anni non funziona più il corpo, e tu dici, ok, sono defunto, mi metto nell'armadio, mi appendo a una gruccia, e poi dopo 3-4 anni invece ho dei ragazzetti amici miei tossici, poi, perché abbiamo deciso di ripartire dalla terza categoria, e ce n'erano 5-6 bravi, 24 anni, per cui dalla terza categoria, e va a giocare a Campagnano, con 10 dei paesi cuoco grosso, che batte tutte le punizioni, che tutte le partite, una partita sì, una partita no, finiva con i carabinieri, cioè tutta quella cosa giusta. Poi facevamo pure il torneo dell'Akli, nella morte del lunedì sera d'inverno, sui campi croccanti, e lì siamo partiti dalla terza, e siamo arrivati fino alla prima categoria, però siccome poi la prima categoria si giocava di domenica mattina, le altre si giocavano sabato, noi andavamo direttamente al campo, e lì gli avversari se ne accorgevano, a un certo punto non gliela facevamo più, però bellissimo, c'è delle risse stupende, stupende momenti. Senti, qual è il ricordo più bello proprio di campo? Cioè il momento che dicevo questo, cioè quando vai a dormire chiudi gli occhi, e che momento di campo rivedi? Allora due, uno è una parabola biblica, uno è un gol che ho fatto con la Spes Montesacro, che è il classico gol che sognano tutti, e sono partito dall'area mia, su un calcio d'angolo, dall'altro c'erano le pozze, giocavamo sul Pozzolano, cioè sulla terra, non c'era la sterbetta sintetica, che secondo me è anche la ragione per la quale l'Italia non va ai mondiali, sono tutti troppo abituati a giocare sui campi, poca miseria, infatti non abbiamo più gente che la tocca bene, io ho visto, ogni tanto vedo i campionati di primavera, sono tutti grossi e cose, ma la toccano maluccio, ma al di là di questa considerazione, sono partito dall'area mia, e c'era su un calcio d'angolo, è venuto il libero, si chiamava, e c'era una pozza enorme, io ho visto che la palla si fermava, l'ho aspettato, me lo ricordo perfettamente, ho dato lo scavetto sotto, l'ho superato, e poi ho superato uno che mi veniva incontro all'altezza del centrocampo, mi sono allungato il pallone, la palla schizzava, e sono arrivato praticamente alla linea di fondo, per cui sono rientrato, e ho fatto la finta al portiere, il portiere è uscito, io sono entrato proprio con la palla dentro, la porta, perché è un momento più alto, e l'altro invece biblico è un guardaline dell'Akli, che avevo insultato, io dicevo, guarda, più che con gli arbitri, guardaline, guardaline, a me, perché più fragili, anche è una cosa da, meno tutelati, poi no, ma anche perché io mi sono sempre chiesto, cioè se tu andavi alle 8 di mattina, a, che ne so, a Fidene, alle 8 di mattina a arbitrare, hai 15 anni, vai a arbitrare una partita di ragazzini, in cui sai che se te va bene, non ti succede niente, ma se no ti possono insultare, spaccare la macchina, menare, a 15 anni, per la partita dei bambini, per cui dicevo, io comunque avevo un'ammirazione, anche se rompevo i coglioni, e questo l'ho insultato a morte, perché mi aveva, mi aveva, mi aveva espulso l'arbitro, io pensavo che lui avesse detto all'arbitro che io gli avevo detto, vaffanculo, perché invece mi aveva dato un calcio in culo, una a Santa Severa, era una finale di Agli, la sabbia, e invece poi scopro che lui chiama l'arbitro e gli dice, no, guarda che mi ha detto, mi ha dato un calcio in culo, però io l'avevo già insultato, cioè gli avevo, proprio a questa distanza, pezzo, le merda, cosa, nano, gli avevo detto cose brutte, 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 e a quel punto quando mi rendo conto che l'arbitro revoca la sanzione, io dico, sì ho capito, ma però è successo, cioè io a questo qua, cioè dovrei essere espulso per 34 giorni, e invece lui non ha battuto ciglio, perché ho detto, guarda, questo è un momento, è una parabola biblica, l'uomo ha saputo perdonare, perché lui può chiamare l'arbitro e dirgli, guarda, d'accordo, non era vero, però nel frattempo lui può andare in prigione, per quello che mi riguarda. Mi ha urlato di tutto, per cui ho molto apprezzato. Quindi è anche fatto a botte in queste circostanze. Sì, io devo dire che non ero, perché a me non mi conveniva che si accendesse tanto la partita, io ero il giocatore più tecnico, ero anche segalino, però c'avevo due argentini grossi, c'è sempre due o tre in squadra che gli piace menà, per cui io tendevo più a separare, tranne quando ti vengono a cercare, oppure quando c'è proprio la tua incolumità fisica, cioè se tu stai in uno spogliatoio che è in fondo a una stradina e poi usci a Campagnano, a Nazzano, lì ti devi fare i testuggi, però ecco cerco di non… Però mi ricordo che mi aveva molto colpito anche da bambino piccolo, già si simulava, cioè mi ricordo gente che si buttava sui calciotangolo, sai che sui calciotangolo c'è una cosa di tepesto il piede, io mi ricordo a 12 anni uno, ancora me lo ricordo, la faccetta Riccetto che si era buttato per terra su un calciotangolo mettendosi le mani in faccia dicendogli che gli avevo sputato, e io gli dicevo non ci credo, cioè ero quasi ammirato, ho detto ma veramente lo stai facendo, cioè ma che sei pazzo, ma che cosa t'hanno detto, cioè abbiamo 12 anni, non mi puoi conoscere, hai capito? Però siccome ero sellerone, ero alto, magari avevo fatto gol e cosa, per cui c'era questa cosa, ma partorire a 12 anni un pensiero del genere, per cui non sono riuscito a dire niente a Riccetto. Posso farti una domanda, perché io ho fatto calcio a 11-3 mesi, sono andato… È il tempo giusto. Sono entrato in campo, una partita non sapevo dove ero, io venivo dal rugby, ho giocato a calcetto, però calcio a 11, ho messo terzino-sinistro, ho detto non so dove sono e dove sono i miei compagni, è andata male. Però la sensazione che ho avuto è che si inizia a simulare, anche per tutelarsi, perché quando l'arbitro è un sedicenne che non vede niente, soprattutto tu che sei il 10, se ti prendono a calci sulle gambe tutta la partita, a te glielo devi far sapere, quello è rimasto 50 metri dietro, fai… Sì, però una cosa è simulare un reato, cioè lui ha detto all'arbitro, cioè non è uno scopo di gioco, lì tu l'unico intento è farmi espellere, sei un bandito. E un'altra cosa è, io per esempio ho sempre odiato pure i miei compagni, io li chiamo gli strilloni, quelli che quando lo prendono fallo iniziano a urlare, cioè io sto per terra se mi faccio male, poi io cercavo di evitare, però quella è proprio un reato, cioè di volermi fare espellere, poi accentui le cadute per non spaccarti, cioè quando vedi uno che ti entra male, però ecco quella è una cosa infame. Io poi mi ricordo quando andavo a scuola a calcio, un bambino aveva fatto un fallo, così era caduto, mi diceva fallo, no no no, sono cascato io, non è niente, ho detto no sbagli l'allenatore, devi far finta, devi dire che devi piangere, proprio si diceva proprio. Certo, ma questo è una cosa molto, adesso vorrei citare Stannis, ma è una cosa molto, no, è una cosa, è una cosa molto italiana questa. Sì, sì, sì. È molto italiana e molto romana pure questa cosa di dire ai ragazzini fin da piccoli che devi visce, che devi giocare, ci si perde un po' il gusto, io ero così naturalmente e lo sono tuttora e lo rivendico, però so che ci sono nazioni ormai più evolute calcisticamente e noi siamo una periferia ormai del calcio. Ormai a tutti gli effetti. Io la sono andato a vedere l'altro mattino una partita dei bambini di sette anni e comunque io vi diverto, perché comunque ci tengono, mi diverto, ci stanno gli allenatori, comunque faccio tutta la simulazione, c'è il portiere che era una pippa, che poi non conosci tutti i genitori, per cui devi stare attento, sono molto suscettibile, è molto difficile andare a vedere i partiti dei ragazzini, poi non è mio figlio per cui rischi solo veramente di andare a litigare per delle cose brutte, per un fallo laterale. sempre con il guardaline, per fortuna non ci stanno i guardaline. Però comunque è il figlio di qualcuno che conosci, ce n'è che va alle partite dei bambini. No, perché lì c'è lì. No, no, è il figlio dei bambini, no, certo, no, no, perché io sono il suo mentore. Ok, ok. No, però è bella anche questa figura di quest'uomo. Ma io spesso mi sono fermato a vedere partite, cioè io quando dovevo andare a girare una cosa, un film, una cosa, io mi informo sempre dove gioca la squadra locale per andare a vedere, anche mi piacciono le partite interregionali, proprio quelle che si corcano, quelle lì me le vado sempre a vedere. No, qui tu sei partito da questo e poi come sei arrivato a fare l'attore. Esatto, perché noi abbiamo studiato un po', abbiamo visto le interviste e tu dicevi ah, io ho cominciato, come si dice, per sbaglio, stavo facendo l'assistente, lui, con Chekov, però come, cioè... No, allora, a parte che è vero che io, l'ho anche detto in un film di Arcopinto, con tutti quelli di Boris 25 anni fa, che io facevo l'attore per fare la partita del cuore e questa è una verità. Dopodiché, in realtà, nel mio lavoro, quello che ho imparato giocando a pallone è fondamentale, almeno per quello che mi riguarda, perché usi il corpo, perché io ho iniziato in teatro, in teatro c'è uno spazio, un inizio, un primo tempo, un secondo tempo, ci sono le prove, che sono gli allenamenti, cioè è un rito, è quella roba lì, è quella, diciamo, sveltezza, immediatezza, modo di usare il corpo, quella cosa lì, poi ci sono delle scuole in cui la straimpari, però io l'avevo imparata là e credo che l'unica cosa che ti insegna poi veramente è di non essere, di non guardarti, in campo non c'è tempo di guardarti, qualcuno se guarda, in Italia, tanti se guardano che fanno il giravolte, però, come dì, devi spegnere a un certo punto l'ego, perché è dramma puro il calcio, cioè io ho un obiettivo che buttatela là e non farla entra qua, e tu contrario, cioè è dramma puro, perfetto, e sei in un collettivo, in una compagnia, in una comunità, chiamalo come ti pare, e non hai tempo di starti a guardare che fai qualcosa, la fai e basta, e poi ero innamorato, lo sono tuttora, del pallone, cioè a un certo punto, io da bambino facevo i disegni su come si comportava il pallone, io ero convinto che avesse proprio un carattere, dei sentimenti, ancora adesso io bestemmio quando guardo in campo anche professionisti che non leggono un rimbalzo, perché magari su un contrasto non capisci che siccome la palla ha toccato il piede in quel modo, rimbalzerà così, mi dico ma come cazzo fai a non capirlo, per cui io sono, come dire, i diritti del pallone, mi stanno molto a cuore, la coscienza. Eppure lo prendi a calci, diciamo. Di pace, esatto, dipende dal suono che fai, comunque insomma poi ho iniziato a fare l'attore perché Bin Laden ha tirato di sotto le torri gemelle, lui non lo sa che è legato alla mia carriera, diciamo, e io stavo a New York cinque giorni prima perché studiavo regia, volevo fare regista. E poi invece sono tornato per fare uno spettacolo che dovevo fare a Benevento, sono venuti sotto le torri e mi hanno preso per fare il medico in famiglia. L'ho detta molto veloce però, però è incredibile, è così e io poi per vigliaccheria, perché quando hai velleità autoriali, io ho sempre studiato regia in teatro e poi al cinema, ti devi assumere responsabilità più grosse, cioè è la tua voce, non è che tu sei un interpreti di qualcosa o che ce posso fare, l'hanno scritto loro che è un po' quello e incredibilmente il mio mestiere è diventato l'alibi per non fare l'autore. Poi ho avuto la fortuna di lavorare tanto perché dicevo io come faccio a fare film, cioè come faccio a fare l'opera prima che devo mettere lì, sto a lavorare, per cui in realtà ho fatto diventare un alibi e la prova della mia vigliaccheria un lavoro e ho avuto questa fortuna diciamo. E poi ho avuto la fortuna di crescere e di conoscere da 40 anni che giocava anche con me, gli autori di Boris e molti attori di Boris, ci conosciamo dalla prima media, Giacomo Ciarapico. Ecco Giacomo Ciarapico è il mio unico vero grande biografo di calcio, se volete invitarlo lui mi ha visto giocare, non c'erano i telefoni, lui attacca una pippa sul calcio, però lui era proprio... Giacomo Ciarapico invece veniva insultato dal presidente stalinista perché lui si presentava al campo con i boxer lunghi che uscivano da sotto i calzoncini e questa era una cosa che per cui... e mi ricordo che giocavamo naturalmente c'erano i campi con le reti e c'era la tribunetta con i tubi innocenti e Giacomo faceva gol e si andava a grappare dietro la porta ma non c'era nessuno, per cui era una cosa veramente inquietante, solo che erano 82-83 lo scudetto della Roma, lui era appena arrivato a Roma andava in curva, per cui c'era sta cosa, faceva il gesto di Falcao e poi andava a scuote sta rete ma c'erano dei cani, i campi, un ritmo, capito? e lo lasciavamo solo, cioè lui era solo, perché poi non è che ci andavamo a facca pannello, no c'era proprio... Con questi boxer che penzolavano sotto, questi boxer con i bauli, no, 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 i bauli, i bauli, quindi ricapitando Bin Laden, un medico in famiglia, questo è il messaggio a giovani attori e attrici, aspettate il prossimo attacco terroristico e poi andate dritti a fare questo No, ma io ero ragazzo, cioè io non avevo la televisione al tempo e non sapevo cosa fosse il medico in famiglia, in realtà, per cui... però te prendono... Però come sei arrivato? Ci hai mandato un provino, no? No, perché in realtà ho fatto un provino con uno che, l'aiuto regista era uno che giocava con me a pallone tra l'altro, ma avevo fatto un provino per fare un'altra cosa, sempre con Banfi, sempre della stessa produzione, che era una cosa in due puntate, che non avevo idea con il figlio dei Manfredi che faceva la regia e mi hanno preso e poi lì di colpo io ero una specie di disadattato, cioè vivevo una vita mia fuori dal mondo senza la televisione e di colpo l'Auditel, cioè diceva, l'ha visto 12 milioni di persone, cioè a un certo punto non uscivo più da casa, già non uscivo prima, però prima non uscivo per scelta, invece in un certo punto, ma l'incontro con i paparazzi, guarda che è un'esperienza che se... adesso non mi ci fa pensare, ma è una cosa strana che ti segui, cioè ti seguono, che ti seguono e ti dicono anche, cioè che pensano, dai, siediti che ti faccio una foto col gelato, ti fai una foto col gelato, ma io siccome reagivo come reagirebbe una persona normale, cioè ma che cazzo vuoi? Ma brutto muso, io rischiamo un paio di volte che fai incidenti, come Diana, cioè, ma una roba... no, ma loro perché pensano, ok, cioè, ok, ok, sappiamo che tu sei un tipo un po' sui geni, però facciamo tutti parte di questo mondo, dai, su, dai, siediti con la tua fidanzata e mi prendete per mano sulla panchina, ma sei le madonna, ma come cazzo ti permetti? Poi ti chiamano, novella 2000 ti chiamano e dicono abbiamo avuto delle foto, ci sono delle foto tue che cammini con la tua fidanzata, vorresti fare un commento? Ma che cazzo ti devo dire? Cioè, ma veramente, ma è una cosa, è una cosa angosciata. Poi tu sai che in realtà loro guadagnano sulla tua sofferenza, cioè il loro sogno di vederti con un'altra, per cui se ti procurano dolore, dolore profondo a te, alla tua famiglia, alle persone, ai tuoi affetti, loro ci guadagnano di più, perché io mi ero anche informato sulle tariffe, io c'eravo sotto casa, cioè sotto casa fissi, che è una cosa che dice, ma io, cioè, ma che sono magistrato, cioè, ma è incredibile, no, ma è incredibile, cioè, poi non è che sono così scemo che non capisco il sistema, però siccome a me della vita, cioè, ma che mi frega a me, ma poi, cioè, fai uno scoop che mi vedi, che ne so, che mi butto col delta plano con delle tette finte, e dici, vabbè, eccentrico, interessante, ma io che cammino e mi gratto il culo per strada, e poi, aspetta, perché poi te spiano e poi sono pure moralisti, cioè, tu puoi, tipo, fai tipo, io sbattio, ah, beh, in mezzo alla strada, eh, un po' volgarotto questo Sermonti, ma sei venuto a spiarmi sotto casa, vaffanculo, hai venduto le copie, e adesso mi dici, ce n'era una in cui facevo così? Eh, le dita nel naso, non ce l'aspettavamo da questo, ma che cazzo, cioè, così, per cui, adesso, guarda, l'unica cosa buona dei social è che ormai sono tutti autopaparazzi, per cui almeno quelli, e poi sono anche invecchiato, diciamo, perché comunque il medico in famiglia era visto soprattutto da ragazzini giovani che magari erano interessati a quella cosa lì, adesso, evidentemente, un pubblico più stagionato, che è meno interessato all'aspetto, quello, diciamo, più pruriginoso, però, e credo che i social abbiano un po' fottuto i paparazzi, anche se io, in realtà, dal giornalario ne vedo un sacco ancora di... Eh, però ve lo chiedevo, perché effettivamente adesso... Eh, ma anche con Boris, cioè, ai tempi di Boris non c'era questa cosa dei paparazzi, è solo con il medico in famiglia? Eh, la Rai, sì, eh, sì, quella cosa lì, sì, ma poi di colpo, cioè, poi... Cioè, io sono andato a Sanremo, io sono andato a Sanremo prima che uscisse il primo medico in famiglia, e mi sono reso... Mi era successo anche girando, perché io vedevo la gente che urlava, vedeva la bambina annuncia, e urlavano, cioè, gente sotto, bambini, che... Io dicevo, ma che cos'è? Poi siamo andati a Sanremo, e ho visto la reazione del pubblico, e mi ricordo che sono andato, e c'era Pippo Baudo, e io non... Nessuno mi conosceva, a me non mi cagavano proprio, perché io non era ancora successo, cioè, non era ancora entrato lì dentro, e mi ricordo che stavo in albergo e vedevo Pippo Baudo in televisione, c'era la sauna, per fatta capire il livello di papponeria, e... Per cui dicevo, vabbè, sto qua e vedo Pippo Baudo a Sanremo, ok, è normale. Poi mi prendono, mi portano in una macchina, c'era una televisorina, e dicevo, vabbè, c'è Pippo Baudo a Sanremo, e vabbè. Poi mi portano dentro il teatro e vedo Bobby Solo, ancora me lo ricordo, questo ciuffone è bellissimo, vedevo la televisione, ah, c'è Pippo Baudo a Sanremo, poi vado dietro le quinte, vedo la televisione, e Pippo Baudo dice, è Pietro Sarmonti, di colpo, così, e s'aprono queste porte, ma di colpo, e lui che mi fa, ciao Pietro, ciao Pippo, e lei ho capito veramente che merda, cioè, ma, però, però la cosa bella è che c'era, però il pubblico era, era, il pubblico era morto, perché dicevo, ma chi è questo? Mi ero vestito come Dylan Dogg, una cosa bruttissima, e lui mi presenta, però grande, perché le trasmissioni televisive, sei sempre amico di tutti, che è una cosa che ho sofferto un po' tipo i paparazzi, un po' come, per cui, uno devi stare attento a non dire le parolacce, sai che sei in diretta, per cui il 98% di quello che penso non lo posso dire, perché comunque sto parlando e sto cercando di promuovere un prodotto e conosco bene o male il meccanismo, però sta cosa che siamo tutti amici, che se conosciamo tutti, magari io ero già grandicello, non me è successo a 18 anni, ce ne avevo 30, per cui un minimo di mondo l'avevo visto, e magari incontrai la gente che ti stava sul cazzo, ma da morì che li volevi uccidere, capito, che invece c'era questi grandi sorrisoni e questo grande siamo tutti sulla stessa barca. Ti posso chiedere chi? No, beh, però posso dire che sono stato a porta a porta. Ok. È questo. A porta a porta riuscire a rimanere seri, cioè a riuscire veramente a parlare l'italiano, a capire cosa ti dicono e con lui, con lui, cioè, no, ce ne sono stati, c'è chi mi fa una domanda su un film, quella è stata Doris, no, ce ne sono stati momenti difficili, insomma, c'è di peggio nella vita, però io ero un timidello, cioè un introverso, tutt'ora peraltro. Però sono venuto qua. È incredibile. Adesso voglio dirlo, perché io sono, proprio a me non mi va di parlare, non ho le interviste, non ho i social, però non so perché sono finito qua. Cioè, in realtà lo so. Ed è la ragione per la quale la mia compagna non è venuta. Ci arriviamo. Adesso ci arriviamo. La facciamo cuocere bene. Ah, cioè c'è la birra che è per i codi, invece qui c'è l'acqua. C'è anche l'acqua se vuoi, se preferisci. C'è anche l'acqua, chi vuole c'è anche l'acqua. Lo faccio come il portiere dell'Argentina, me lo metto qua. Perfetto. Apprezziamo molto, anche se qui siamo fan dei portieri dell'Argentina e tutte le loro manifestazioni. Ti volevo chiedere anche, fare il Medico in Famiglia, com'è stato? Cioè, perché comunque effettivamente era forse la serie più seguita la serie. Era una cosa incredibile. La mia fortuna è stata che non la conoscevo e poi ho avuto la fortuna di... Per esempio ho lavorato con i giovanissimi, io ho lavorato con Edoardo Leo che cominciava con Stefano Fresi e poi c'era Milena Vukodic, per esempio, che comunque era una che ha lavorato con Buñuel, con Tarkovsky, con Fellini. Cioè c'era una della grande professionalità. E poi ho avuto la fortuna di avere un regista perché il mio dramma era che... Allora, mi hanno spiegato quelli della Rai perché vista il successo di queste due puntate mi hanno detto, oh ma lo sai che forse vuoi fare sto Medico, io lo chiamo il Medico in Feniglia, ma che ne pensi? Ti va? Per cui mi sono messo sta cosa da pizzicarolo, ho fatto sto provino, questa cosa. Ok, perché Scarpati non gliela faceva più. Aveva fatto due serie di cui la prima credo che avessero girato un anno e mezzo di seguito. Ok, e neanche con l'orario di adesso che è o la francese otto ore o le dieci ore, giravano tipo quattordici ore, per un anno e mezzo. Tra l'altro il Medico in Famiglia si pensava che dovesse andare tipo alle sei di pomeriggio. Cioè era una cosa proprio pomeriggia, invece ha avuto un successo clamoroso. e loro mi hanno detto, guarda il tuo personaggio è simpatico. E io ho capito, leggendo le sceneggiature, che essere simpatici per la Rai di allora era fare tantissimi giochi di parole. Ma a me i giochi di parole mi fanno venire una voglia di nuocere incredibile, ok? Cioè ne puoi fare due da genio, ma due da genio in un anno che io mi disegno. Ma questo era tutto, cioè lui parlava con i suoi pazienti, con gli amici, seduceva. Cioè lui diventava irresistibile facendo dei giochi di parole. E io ho detto, guardate, io ve lo dico con tutto il cuore, io non sono capace. Cioè non sono la persona giusta. Per fortuna c'era un regista coraggioso che invece mi faceva fare quello che... Gli dicevo, guarda, ok, so cosa devo raccontare. Facciamolo succedere, sapendo qual è il contesto, però facciamolo succedere. E dopo due settimane questi della Rai sono venuti da me, il produttore mi ha detto, ma lo sai Sermonti abbiamo capito che questo tuo modo di recitare senza recitare funziona. E io ho detto, vabbè, allora questa... E poi quella è una vera scuola, cioè perché comunque lavori con dei ritmi mostruosi, cioè chi fa il mio lavoro sa, cioè se tu c'hai cinque ore per fare una scena o venti minuti, cioè cinque ore e trenta ciac o venti minuti e due ciac, il risultato... Poi gli attori spesso quando guardano le loro cose vorrebbero che magari una scena che non gli piace ci fosse la didascalia sotto, ma qui cazzo però eravamo in straordinario, c'eravamo tutti con le macchine accettate, facevamo freddo dalla madonna, erano le sei di mattina, ma non si può, per cui tutto fila. Però in realtà quella è stata una scuola di... In realtà di grande improvvisazione, cioè poi io facevo... Mi facevano un po' fare, avevano capito... Poi per fortuna la prima serie è andata bene, io ricevevo un sacco di lettere, c'erano le lettere, e siccome ero un imbecille, ero veramente un coglione mitomane, io volevo combattere il sistema da dentro, ok? Per cui ho detto, ok, io adesso vi dico quanto è brutto questo medico in famiglia che state guardando, per cui tutte le persone che mi fermavano, le ragazzine, gli autogrill soprattutto, io chiedevo alle persone... No, gli autogrill non ci si poteva andare, cioè se io mi è capitato due o tre volte in autogrill di vedere arrivare un pullman, i pullman, anche perché poi non c'erano i telefoni per fortuna a quei tempi, per cui facevi l'autografo. E io però me l'ho messo in testa, siccome ero un coglione, che comunque io ti faccio l'autografo ma me lo fai pure tu. Per cui io c'avevo uno scatolone enorme di autografi, di gente che pensava ma che cosa fa questa? Ma che c'ha, che problema c'ha questo? Poi ho capito che era una minchiata di proporzioni incalcolabili, in realtà ho capito anche che ero proprio stronzo, nel senso che se poi, al di là di quello che io, come dire, pensavo del racconto medico in famiglia, dell'oggetto, sapendo dove si faceva e cosa, ma se io incontro una ragazza di brindisi, di 14 anni, che si è emozionata tanto a vedere quella cosa, che faccio? Ti spiego che non è giusto? Che hai sbagliato? Sei una merda! Cioè, ma chi te credi di essa? Allora non lo fa, cioè non so come... Sì, sì, sì. Però ci ho messo un po' a capirlo, ci ho messo un po' a capirlo. E ci sono tante persone in questo paese, ve lo voglio dire, è vero, che hanno scelto di fare medicina. È vero. È vero. Fanciulle, soprattutto, meridionali. E questo lo dobbiamo dire. Eh sì, perché poi sono quelle che adesso rincontro, che avevano magari 20 anni fa, avevano 10 anni, 12, adesso ne hanno 30, 32, e sono tutte laureate, dottoresse che mi incontrano ancora adesso e mi dico io sai che faccio sto mestiere per colpa tua. Queste sono cose che ti riempiono il cuore. Ho anche merito, comunque, i medici, i nostri eroi, ricordiamo. Porca miseria. Porca miseria. Quindi, mentre lo facevi, ti faceva cagare? Cioè, si può dire. Che cosa? Il merito in famiglia. Beh, diciamo, non era il mio genere. Ok. Cioè, nel senso, io volevo fare il critico dei Cagliè di Cinema, io ero un cinefico, snob, per cui, come dire, non c'era la televisione, non era una cosa che mi interessava, anche la fotografia, diciamo, non era proprio una cosa che mi toglieva il fiato. Dopodiché, come palestra d'attore e anche con moltissimi colleghi con cui ho lavorato, c'era gente veramente di altissimo livello, c'è gente che ancora che, nonostante il medico in famiglia, è ancora mia amica. Cioè, ci continuiamo a vedere. Per cui, quella, diciamo, quella cosa un po' sprezzante di sputare nel piatto, anzi, io ho fatto una cosa terribile, perché io avevo firmato per due serie, perché funziona così, se tu non te conosce nessuno, siccome io avevo fatto un anno e mezzo dei provini che erano, sì, ti prenderemo pure, ma non ti conosce nessuno, e tu gli dici, ho capito, hai capito, e dunque, e invece, era successa sta cosa, ho dimenticato quello che dovevo dire, che era una cosa fondamentale. Hai firmato per due serie? Ah no, certo, per cui te pigliano, non ti conoscono, ti fanno firmare per due serie, la prima, li paghi tu, praticamente, cioè ti chiedono un qualcosa, cioè non ti danno niente, la seconda ti danno il doppio di niente, ok, per cui tu lavori per due anni, che, cioè se tu pensi a quello che poi succede dopo quando vai avanti con questo mestiere, è imbarazzante, ok, però lavori per due anni, dopodiché sei libero, per cui io, già dopo la prima, manifestavo al mio agente, che invece non vedeva l'ora che la facesse, perché lui prendeva la percentuale sul niente, però, però era una cosa che mi rendeva molto popolare, per cui era il trampolino, poi sono andato a incontrare questo della Rai, che mi aveva detto, quando io gli dicevo che non volevo fare più il medico in famiglia, che mi aveva detto tu sei un attore Rai, e io gli avevo detto ma cos'è il futuro del verbo attorare, attorerai, attore vermo, che cazzo vuol dire, cioè io faccio l'attore, se posso non fare questo tutta la vita, ecco dopo due serie, alla prima serie non potevo, perché a me ci fanno pagare una penale che andiamo a vivere da un'altra parte, ho fatto la seconda e poi ho iniziato il mondo di Boris, che è stata la svolta, perché io mi sono potuto prendere per il culo, che è una cosa incredibile, però nonostante io abbia fatto, dopo aver fatto una o due serie di Boris, non mi ricordo, io sono tornato a farne un'altra del medico in famiglia, proprio per, sai perché? Perché mi sono ripreso tutti i soldi che non mi avevano dato, ok? Per cui, e poi, siccome questa serie dove io sono tornato, e ancora i miei amici mi odiavano perché gli avevo fatto spostare le riprese di Boris per fare un medico in famiglia, che era una cosa porno, e dopo, siccome questa sesta serie era andata bene e tutto, mi hanno detto, no vabbè, non te ne puoi andare, e io gli ho detto, no mi dovete far morire, è un po' Boris, cioè io voglio defungere, io voglio morire, devo morire, ma no, ma viene a fare la prima puntata, no voglio morire, morire lontano, e infatti pare che io sia morto in Africa, no è vero, adesso non me lo ricordo, io c'avevo, io c'avevo i miei amici che continuavano a fare il medico in famiglia che mi dicevano su due giorni che stiamo a guardare la tua foto e piangiamo perché sei morto, capito? C'era mia figlia che sembrava una bambola assassina, c'era questa frangetta con questi occhi di ghiaccio che faceva papà morto, papà morto, mi mandavano dei piccoli video, una cosa terrorizzante, però finalmente sono morto perché se tu non muori prima o poi ricicci fuori, per cui mi sono tolto il sospizio e poi ho proseguito con Borisetto, ma infatti questa... Tu sei morto perché oggi mi sono andato a studiare, mi sono rivisto tutti gli assunti, sei morto, ma però tipo finiva la stagione che eri vivo e poi comincia la stagione però comunque è morto, cioè tipo... Quindi letteralmente odimo, sì, tipo voce narrante, sai cos'è? Che loro giustamente dicono tu devi morire tra una serie e l'altra perché se mi mori all'inizio della serie e poi stiamo a piangere per 13 puntate, per cui tu sei già morto e digerito, poi ogni tanto uno fa una lacrimuccia che guarda o la bambina dice a scuola quando gli dicono tuo papà dov'è? papà è morto, però non possiamo farti morire là, per cui tu sei morto in Africa, io ho detto vorrei essere morto su una mina in Africa, invece mi sa che sono morto male, forse un incidente in macchina forse, invece è una roba un po' misera, non me la ricordo, però sono morto. E questo era l'importante. È la cosa bella che fa l'attore che mori spesso, commetti spesso reati e non vai a gabbio. Esatto. Ci sono tanti vantaggi, diciamo. Ma è una cosa che ci chiedevamo, tu, quindi c'è stata questa sovrapposizione Boris, un medico in famiglia proprio cronologicamente, ma tu in Boris effettivamente prendevi in giro te stesso e il mondo Boris prendevi in giro il mondo medico in famiglia, diciamo la fiction italiana. C'è stato qualcuno che ha rosicato, cioè magari non tanto però ti ha detto scusa ma che stai a fare? Cioè fai questa cosa e poi la prendi in giro? Ma guarda, così fisicamente nessuno me l'ha mai detto. Anche perché diciamo Boris, i primi, Boris abbiamo fatto il 2007, 2008, 2009 e il film 2010. Boris è venuto fuori dopo, è stata una cosa diesel, cioè all'inizio andava su Fox e credo che avesse 36 abbonati eravamo noi. Cioè Boris è venuto dopo, a me, io l'ho visto perché a me mi chiamano Guido per strada che era il personaggio del medico in feniglia, Guido Zanin, a me mi hanno chiamato Guido fino al 2011-12 poi a un certo punto Stannis e poi sono proprio persone, è proprio una cosa antropologica, cioè chi ti chiama Guido è un tipo di persona chi ti chiama Stannis. Adesso, ultimamente che è uscita la nuova serie, il fan di Boris l'abbiamo proprio studiato, è una persona molto nervosa di solito, molto suscettibile e soprattutto sono malati, cioè loro ti dicono e ti chiedono cose che tu hai fatto 15 anni fa, che tu non ti puoi, cioè io non mi posso ricordare quello sguardo che ho fatto quando René mi dice non lo so, cioè non me lo ricordo adesso con tutto e loro ci rimangono malissimo e pensano che tu sei una brutta persona, cioè che sei proprio una persona che non merita, però infatti quando abbiamo fatto la pilota di Boris in realtà nella pilota che noi abbiamo girato in un giorno 24 minuti in un giorno ed era praticamente la pilota che poi è andata in onda agli studios io ero un prete giocoliere cioè non ero il medico io gli ho detto ma io ho fatto il medico in famiglia ma scusate ma c'è gli occhi del cuore che opero davanti a cieco e cosa giochiamoci sta cosa per cui diciamo nella pilota poi quella che abbiamo girato io avevo il camice da pizzicarolo ed è io penso che non sia successo a nessun attore di potersi prendere per il culo così e solo degli amici perché in Italia se tu sei io adesso mi vedo un po' così un po' sciupato ma una ventina di anni fa con i capelli diciamo se tu hai i capelli sei alto hai gli occhi chiari sei l'attore giovane non puoi farire cioè proprio non è possibile tu devi solo raccontare storie d'amore difficili le cose per cui fai ietone e cose siccome io questi li conoscevo da quando sono ragazzino cioè un casting normale non mi avrebbe mai chiamato a me mai invece loro sapevano che ero anche una persona così capace di giocare e cose e mi hanno consegnato il più bel mi hanno fatto il più bel regalo che si possa fare creda un attore cioè se tu mi dicevi che cosa avresti voluto fare io sinceramente poi ovvio ci sono straordinari film e cose ma io non veramente ma lo dico oggettivamente non penso che si che avrei potuto fare qualcosa che poteva farmi godere così tanto come fare una persona così squilibrata e scritta dentro a quella storia lì scritta da fratelli fatta con fratelli in cui tu apri tutto sempre sempre e arrivare e poi arrivi a 50 anni e fai Gesù cioè ma quando ma come ma come quanto puoi essere fortunato infatti forse questa cosa l'ho pensata perché ho detto ma vedi questo facevo prima il American Famiglia ma fa fa Boris e quindi ho visto un po' di contrasto però effettivamente tu l'avevi visto? sì ah vedi cioè ci avevo pensato a questa cosa io no però perché io pure non ho televisione non ho mai visto American Famiglia ma ho visto Boris quando era uscito perché l'unico anno della mia vita in cui a casa mia c'era Sky perché c'era il mondiale di rugby e quindi avevamo fatto Sky vedi vedi il rugby vedi il rugby che unisce i popoli e ti fa vedere i popoli ah perché tu avevi pensato i popoli stavano a sto stronzetto eh capito per fortuna non c'erano i social perché se no me l'avresti detto no 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 non avrei detto lo stesso perché però hai aspettato 15 anni per dire cioè io sono qui per questo adesso non possiamo dire no no cioè avevo pensato però ho detto effettivamente è bello che si prenda in giro perca miseria quindi è bella ma poi sai Boris nasce dalla dalla frustrazione che ognuno di noi aveva provato nel suo ambito che da attore loro da registi e da sceneggiatori quando tu scrivi una sitcom in cui il tuo editor è un vescovo o un parroco un pochino ci rimani male cioè infatti il bellone di Boris è che anche da pubblico noi siamo stati cioè in Italia c'erano solamente quelle fiction e vederle poi prese in giro anche da pubblico era liberatorio che è il motivo per cui ha fatto molto successo tra i miei colleghi ci sono persone che c'è quelli che fanno le lunghe soap sono persone che vivono quella realtà lì che l'hanno vista come una liberazione ma Boris io ho girato in Austria in Marocco in Bulgaria e gli aiutoregisti indigeni usavano Smarmella Casso de Cane apre tutto apre tutto cioè io sono arrivato in Marocco a Tangeri e l'aiutoregista mi ha detto Stanis prego capisci cioè per cui non si sa bene come e adesso dopo 15 anni però mentre prima Boris era normale per certi versi che piacesse perché era veramente una cosa anomala e l'alternativa era Rai o Media Adesso dopo 15 anni questa serie qua si è fatta perché durante il lockdown Netflix ha rimandato astutamente le vecchie serie che però sembrano girate col Nokia cioè ormai tu ormai tu puoi vedere tutto il meglio dell'audiovisivo che c'è nel mondo te lo vedi a casa se hai 15 anni poi vedi Boris e dici oddio sembra un filmino però evidentemente la lingua perché poi è quella la scrittura di Boris che è eccezionale ha fatto breccia nei 15 anni 18 anni di adesso e io dopo il lockdown me ne sono reso conto perché siamo usciti finalmente la prima estate c'erano tutti i ragazzini che non erano nati quando noi giravamo Boris che stavano a rota anche perché è molto è molto memizzabile mi hanno spiegato e mi hanno detto di così è molto memizzabile perché a me spesso mi arrivano cioè mi prendono cose per cui la generazione adesso che fa tutto accoriandoli e vende tutto quello che molta gente ha visto Boris e molti ragazzi conoscendone solo dei pezzi nei meme poi hanno detto oh madonna è una serie cioè loro non sapevano erano dei pezzi di tessere di un puzzle che si ricomponevano per quello che sono andati a rota appunto poi tu dicevi l'hai visto anche scusa vai vai in questa nuova serie l'hai vista anche hai visto che l'hanno doppiata in diverse lingue porca miseria vi consiglio se avete questa perversione di andarla a vedere perché gli attori che i doppiatori miei soprattutto sono molto più bravi di me per cui è una cosa imbarazzante perché quello in inglese cioè che devo andare a cercare sotto casa hanno evidentemente una cosa un software per cui è proprio la voce mia in inglese in turco turco in polacco in polacco non ho colto come hanno tradotto moce se includono a tutti perché poi ognuno ha le sue zone che vuole andarsi a vedere le sue sfumature capito però doppiato è una cosa eccezionale non so come sta andando all'estero anche perché queste piattaforme sono molto avare di notizie perché non vogliono far sapere quanti visualizzazioni perché ci dovrebbero dare dei dividendi è vero la fanno questa cosa che a noi non ci sono i numeri no ci sono li sanno loro eh sì non ci sono per noi loro immagino questa polemica qui adesso però è incredibile è incredibile e però effettivamente ma non li sanno i produttori cioè tu produci una cosa e tu gli dici oh ma come sta andando un sacco di un sacco di abbonamenti e tu da attore da lavoratore gli chiedi ma quanti così insomma bene o male ci prendiamo una bricioletta sarebbe la direttiva europea tantissimi very much e poi alla fine ti fanno forfait forfait che sono sempre i soldi della prima serie del medico in famiglia no sono strani sono strani sono elusivi però vedi questo è bello perché adesso ne stiamo parlando di come agiscono le piattaforme che è quello di cui parla Boris quindi come prendeva come tu ti prendevi in giro quando hai fatto Boris e prende in giro quello che stai facendo Boris adesso lo fa automaticamente prendendo in giro la piattaforma stando su Disney Plus che è la piattaforma infatti quella era la vera incognita cioè mentre prima noi eravamo in una piccola trinceina a via del mandrione che sparavamo con i fuciletti a tappi contro i mostri adesso sei dalla parte oscura del potere in qualche modo che però ha avuto l'autoironia adesso non mi chiedete com'è successo però è oggettivo cioè loro si sono fatti prendere molto in giro sono stati molto al gioco hanno avuto il coraggio di raccontare anche delle cose non particolarmente gloriose a me diciamo per la persona che sono mi interessa tantissimo sapere che succede a delle persone che vogliono raccontare delle storie nel 2022 i sceneggiatori giovani io conosco un sacco di sceneggiatori giovani di attori giovani che cosa succede a uno sceneggiatore di 23 anni selvaggio che ha una sua visione del mondo e del cinema che vuole raccontare storie chi sono gli interlocutori sono questi signori che si raccontano sono l'algoritmo ci sono dei parametri ci sono dei cliché narrativi per cui ogni tanto il medico in famiglia sembra Cassavetes cioè adesso lo dico come provocazione però è così e secondo me è molto interessante capire e ascoltare il racconto di che succede a chi vuole raccontare una storia e con chi si deve rapportare cioè quali sono i criteri con cui si scelgono i progetti poi in Boris è tutto esasperato perché già il fatto che uno riesca cioè che Stanis riesca a convincere Stanis produttore riesca a convincere riesca a convincere una persona che effettivamente Gesù è morto a 50 anni e che lui sia l'unico attore possibile quella è una piccola forzatura però ne parlavamo prima insomma ci sono delle cose dei meccanismi che secondo me hanno a che fare con anche l'eccesso e la follia del politically correct delle stesse sabbie mobili poi voi fate i comici penso che ci avrete a che fare spessissimo io ne sento io sento che mi manca l'aria da autore cioè da come dire da libero pensatore poi io non faccio l'autore per cui se io dico una cosa che non piace è colpa degli altri dico sempre io sono gli autori però io chi fa il vostro lavoro penso che poi chi fa il vostro lavoro in questo momento con i social per cui penso che sbagli la parola e ti uccidono ti investono cioè c'è una quantità di suscettibilità nell'aria soprattutto al mandrione altissima dici che Rapone ha rischio coltellata che ne so capito tu dici una cosa no vabbè ma non ci so e se la prendono i tramvieri i rosci del sagittario della provincia di Cosenza e madonna santa ma uno ma fai di una cosa e no perché ci sono gli amici dei fiori che crescono vicino all'autostrada palle oh sì beh poi questo io adesso dico in televisione però anche in piattaforma è amplificato tantissimo forse noi che agiamo più nel mondo youtube è un po' meno è un po' meno forte c'è meno violenza come? c'è meno violenza no no c'è violenza uguale c'è violenza però noi il fatto forse che siamo nei live è più più cioè ci capiamo di più comunque stiamo qua capiamo se qualcosa da fastidio e poi quello che va youtube va su youtube è una cosa successiva a questo perché a me la cosa che mi spaventa è come stasera che io pensavo non ci fosse nessuno è che ormai tu come per esempio all'inizio io andavi in radio io ero felice di andare in radio perché in radio non ti vede nessuno ci puoi andare con le ciabatte come ti pare no? invece ormai non esiste più un luogo dove non sei visto non esiste più un luogo dove tu puoi dire una cosa che non posso cioè che che non corri il rischio che venga presa estrapolata buttata per cui io ero per quello che ero molto preoccupato stasera capisci perché poi uno perché poi parli in un luogo normale a questa distanza però quello che io dico può essere non perché ho intenzione diciamo rimane per sempre però quello ci pensi sì 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 comunque io ci pensi mi rendo conto che trovi un ragazzino che te fa un video tu bestemmi per dirti o dici una cazzata e quella te la puoi pagare carissimo cioè non è non è vero è vero il fatto è appunto che con live cioè noi stiamo qua da un'ora adesso stiamo parlando più o meno ci bene o male ci conosciamo ci siamo che si è creato un clima e quindi c'è fiducia reciproca possiamo dirle effettivamente poi questa roba viene estrapolata messa sui social a me la fiducia mi preoccupa perché è proprio capito la fiducia è l'anticamera della figura del merda è la ZTL della figura del merda tu vedi l'arco non attivo e poi invece esatto e poi invece e forse volevo chiedere due ultime due ultime cose tu sei in gran blu ci diceva Paolo Calabresi che siete voi siete rimasti in contatto voi di Boris vi sentite spesso siete come una grande famiglia ma con quelli del medico in famiglia cioè c'è la stessa cosa oppure oppure no beh però è anche tanto da no perché beh con alcuni sì chi senti ancora Paolo Sassanelli è Paolo Sassanelli secondo me il più bravo attore italiano è andato per la cerca è quello che faceva Oscar credo è il medico un attore fantastico pupugliese e barese ma Boris è che cioè quando noi giriamo Boris in realtà ci pagano per vederci ma tu ti sei visto la sera prima cioè sono le persone con cui sono cresciuto e che vedo sempre per cui è quella la cosa anche incredibile che cioè a un certo punto te pagano per vedete ti vengono a prendere ti portano tu stai là e vedi adesso non tutti gli attori di Boris però diciamo gli autori poi questa serie diciamo questa serie era anche più delicata e io non la volevo fa a dire la verità perché perché non c'è più Mattia Torre che era uno dei tre autori regista e creatura superiore per cui mi sembrava una cosa proprio da non fare e per fortuna mi sbagliavo perché perché Giacomo e Luca invece hanno scritto una cosa io ero il primo che non voleva farlo e non l'avrei fatto se non fosse stato diciamo all'altezza invece l'hanno fatto però comunque tornare sul set senza mattia era una cosa straziante e poi diciamo del nucleo del nucleo proprio di amicizia strettissima ci stanno i tre sceneggiatori finti diciamo Massimo Andrea Sartoretti Massimo Lorenzo Aprea allora sono molto contento io sei venuto al mandione e quelli sono cioè Ale Tiberi e quelli lo zoccolo durissimo insomma con cui andiamo a fare le vacanze di Natale adesso e quindi dici sì non solo ti è capitato che nella vita ti scrivessero un personaggio così ma poi ti è capitato che anche 15 anni dopo ti venissi a prendere il Disney Plus dicendo adesso vai a lavorare con i tuoi amici è incredibile non male ma noi abbiamo fatto la prima di Boris alla conciliazione all'auditorium e io cioè c'era via della conciliazione chiusa c'era un tappeto rosso su via della conciliazione e in fondo come saprete c'è diciamo San Pietro e io andavo là a parlare di Gesù c'era c'era e aspetta ci avevano preso dall'auditorium l'altro dove eravamo andati a salutare il pubblico poi con un pullman tipo quando vinci gli europei un pullman con scritto Boris ci hanno fatto fare tutta Roma e siamo arrivati davanti alla conciliazione e io ma che sono matti Disney diciamo fa le cose in grande poi incontri tante persone che parlano così che non ti riconoscono no la cosa bella è che quando io facevo le prime conferenze stampa beh a me perché a me se mi conosci con i capelli e con le cose le prime conferenze stampa in Rai io ero abituato che il clima umano era quello di un obitorio cioè l'età media dei giornalisti era 90 il desiderio di essere lì era zero e soprattutto cosa che ho capito presto loro davanti agli altri non facevano le domande quelle astute facevano domande generiche cioè che cosa c'è di te nel personaggio un aneddoto quella cosa lì quelle cose là e poi invece vis a vis facevano la domanda quella che poi si giocavano però sostanzialmente l'atteggiamento era il museo delle cere morti e chi stava sul palco anche era molto avanti con l'età con dei lifting dei capelli incredibili dei colori di palpebre mi ricordo incredibili incredibili poi invece la prima serie di Boris che erano Fox che erano arrivati questi ragazzetti qua che gli hanno detto ok noi abbiamo questa missione che è fare quello che non si fa dall'altra parte noi ci pagano io alla conferenza stampa di Boris la prima ho chiesto un caffè a un ragazzino che era il capo che poi diventò il capo di Fox in Europa ma aveva 26 anni cioè erano 4 bambini poi loro tendono ad affidare gli incarichi di le responsabilità importanti a persone argentine con cognomi polacchi per cui erano tutti Stupacciuk Smutriacnik e Svlotnacnok che erano come quello lì che si vede in Boris alla fine ma dei nerd che i felpetti con i brufoli che tu gli chiedi un caffè cioè dice dai però dai dai cazzo dai che lui dice ti posso presentare Svrotnacnok lui è il capo del mondo poi lì grandi figure di merda diciamo invece Disney sono un po' più un po' più soli vengono da 100 anni di dominio culturale occidentale guarda io non posso dire questo perché no no dominio positivo no no nel senso salutiamo no no la Disney perché tu devi stare molto attento quando parli e lavori per la Disney no non ho tu infatti pensavo oddio addirittura siamo alle minacce ho detto tagliamo tutto ma tu ci scherzi ma tu ci scherzi quando tu entri a lavorare c'è tutto un lavoro che si fa sui tuoi profili devi stare attento ai contenuti infatti non ho i social per quello per esempio se io avessi voluto scrivere Biancaneve e le sette persone di bassa statura non l'avrei potuto scrivere e mi avrebbero forse messo in prigione se pensa per dirti capito a Disney Disney che comunque salutiamo salutiamo con gioia ringraziamo ma la faresti una reunion del medico in famiglia sotto forma di fantasma ma no cioè no ma non riesco a immaginarla su Prime Video però lo sai che non ci avevo mai pensato oddio cosa hai detto sarebbe un'ideona sarebbe un'ideona tutti vecchi no certo no difficile ma sai cos'è che non c'è più quella televisione ormai no invece capito su Netflix è la più vista è la serie più vista in famiglia incredibile io non ci posso credere invece non ci posso credere no ecco la reunion è un po' troppo un po' forte solo da pensarci ma com'era lavorare con Lino Banfi allora Lino Banfi viene da un mondo che io come dire che mi incuriosia moltissimo cioè lui veniva dalla rivista lui era scappato dal suo paese dopo la guerra e faceva la rivista vera per cui era un artista di un mondo che non c'era più quando io ho iniziato a fare sto lavoro per cui il mestiere che lui ha imparato in quei contesti poi si era innamorato di una ballerina cioè c'erano dei racconti di quella italiana in bianco e nero stupendi e ci sono dei come dire dei meccanismi che poi abbiamo messo anche in Boris A più B uguale C sulla comicità però ci sono delle cose che io gli ho visto fare e poi devo dire che Banfi faceva come gli pareva per cui ogni volta che io facevo le scene con lui io ero sempre felicissimo perché era io già ero molto libero però con lui però magari se lavoravi con dei bambini o dei ragazzini tendevano meno ad andarti appresso e a dire un po' quello che c'era scritto senti ti trovo stai per morire e tu no guarda Giacomino non è così piuttosto tu come stai mi sono innamorato non sono mai stato così innamorato e tu vai a dire no ma falla un po' più dammi qualcosa e invece Lino andava e le tre quarti dei ciacchi erano interrotti dal seguente motivetto la ra 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 na 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 perché lui aveva la suoneria della Roma e siccome aveva telefonate molto urgenti che doveva ricevere lui teneva il telefono proprio acceso con la suoneria per cui a un certo punto alla terza settimana abbiamo capito che semplicemente stavamo lì e quando suonava aspettavamo non si dava più lo stop era proprio tipo My Sky capito stavi lì fermo na 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 allora che mi stavi dicendo na 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 e tu te rifermavi per cui lui ha un mestiere gigantesco poi ci sono come compagni di squadra ci sono persone con cui ti trovi meglio persone con cui ti trovi peggio ecco quello vabbè non hai risposta però ho veramente imparato un sacco stando con lui anche di cosa non fare per esempio che comunque no tipo eh tipo tipo non tenere il cellulare acceso no ma era più una questione umana più che professionale no no da quel punto di vista lì però era un pischello e stavo lì che tra l'altro io i film di porca puttena tutte quelle cose là a me da ragazzino mi facevano ridere tantissimo per cui in realtà quando mi hanno detto poi quando io ho iniziato a lavorare con lui in questa serie di due puntate che avevo fatto prima che è l'ultima cosa che ha girato Nino Manfredi peraltro era una storia bellissima perché Banfi era un frate che scopriva a un certo punto in tardi ormai avanti con gli anni di avere un figlio che ero io che faceva il cuoco e che a un certo punto andava a bussare al convento e gli dicevo Lino sono tuo figlio perché me lo veniva a dire mia madre che era una stata crocerossina in Africa dove lui missionario una notte sotto a delle bombe o al pericolo della vita aveva ceduto ha detto non voglio morire vergine in grandissima forma peraltro Lino perché poi ero nato io allora io a quei tempi avevo i capelli e dicevo certo mia madre comunque carina doveva essere perché poi mi apriva la porta e erano lì capito però al di là di questo io già ci avevo lavorato lì per cui era 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 nata durante i mondiali del 2002 che quelli che ci buttarono fuori col gol con la Corea e che io stavo girando perché non si erano voluti fermare ah madonna ma che cosa poco italiana se posso no se erano fermati sì ma questa voglio dire che è una cosa che è colpa delle donne ah cioè le donne sul set le donne sul set che dicevano eh sì però poi se facciamo un'ora di straordinario poi becchiamo tutto il traffico sul raccordo oppure eravamo a Morlupo e tu gli dici sì ho capito ma questo succede una volta ogni quattro anni cioè e la cosa è che allora si sono fermati ci siamo fermati ma sono andati i supplementari per cui iniziati i supplementari noi siamo tornati sul set io avevo appena cominciato non è che potevo dire ah panculo io non giro ed era una scena in cui dovevo provare delle seppie delle seppie con dei piselli io facevo il cuoco credibilissimo come cuoco e mi ricordo che stavo c'era il suo telefono un macchinista dentro accesso e io sono entrato e mi sono infilato e avevo visto il gol della Corea e però già c'era stata azione da tipo 5 secondi però io stavo guardando e cosa e sono entrato e ho preso sta cosa che era l'apa cioè era proprio fantossi mi sono messo sta cosa in bocca e ho tirato la più grande madonna di tutta la mia vita e mi è partita una palla da ping pong verde contro il muro quello è stato il mio incontro con Banfi diciamo che è un po' influito bellissimo bellissimo perché ci sono degli attori ci sono degli attori tra cui Banfi tra cui Haber tra cui Rocco Papaleo che fanno questa operazione che rimanga un po' tra di noi cioè loro vengono da fuori però ti fanno Roma bravi sì bravi è un parere mio certo però se sei di Bologna ora allora se ti fida piccolo va bene ma che tu mi arrivi in questo straordinario mondo del cinema è un po' sospetto mi diventi romanista lo so poi invece adesso non vorrei fare un processo all'intenzione però strano che ho 36 anni di colpo romanista così tanto poi no tiepido c'è una simpatia ma sai perché quello i lavori in questo business o ci giochi a calcetto o ci giochi a tennis oppure ti firo ma comunque questa città è tremenda è un po' così ma invece Nino Manfredi com'era il tuo rapporto? nullo 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 perché lui era molto anziano aveva degli orari incredibili perché lui doveva avere una pausa di tre ore e soprattutto lui faceva un vescovo cieco per cui mi ricordo che aveva queste lenti io lo guardavo da lontano perché in adorazione però lui non era di buon amore non era faceva molto caldo era molto caldo e non era proprio convintissimo della sceneggiatura il figlio faceva il regista insomma era molto complicato non l'ho mai visto diciamo brillare era molto di pessimo umore in quel periodo lì poi lo aiutavano diciamo dicendogli queste battute un ragazzo di dread e lui quando non lo sentiva bene tirava delle madonne bellissime vestito proprio da pescovo una cosa fantastica io ho questa immagine che ho rubato alla storia dell'audiovisivo stupendo bellissimo anche questo e forse ci siamo ci siamo è arrivato il momento per cui sei qui è arrivato il momento per cui esiste questo podcast secondo me perché allora diciamo tu è la prima volta che vieni ospite a questo podcast ma sei già stato nominato due volte ecco infatti io sapevo solo una esatto perché una volta sei stato nominato da Paolo Calabresi che è venuto qua e ti è proprio stato citato e però un'altra volta senza fare il nome già in un'altra puntata si era parlato di un episodio che ti riguardava ma non era stato fatto il tuo nome quindi già due volte si era parlato di questo episodio allora questo episodio lo diciamo per le persone a casa si collega a una rubrica la rubrica oramai storica possiamo dire a tutti gli effetti di questo podcast che si chiama Cacare in discoteca il discoteca è inteso come posto dell'anima posto spirituale peggior posto dove andare in bagno la discoteca e quindi noi chiediamo agli ospiti se è un aneddoto al riguardo e Paolo Calabresi ha detto io non ce l'ho però ce n'ho uno su di te e l'ha raccontato però ho saputo che non l'ha raccontato bene no malissimo malissimo mi ha mandato il video mi ha mandato il video e mi ha detto guarda se vuoi fare delle integrazioni dei commenti mi hanno colto alla sprovvista tra l'altro una rubrica che trovo geniale sinceramente grazie perché vabbè poi ne parliamo dopo però è proprio sottovalutata secondo me sono d'accordo cioè non c'è mai stata una scena come la pipì di Hollywood Party legata diciamo alla grossa e e Paolo insomma io mi sono indignato perché Paolo ha raccontato questa storia inventando cose sbagliate e poi loro mi hanno detto oggi che in realtà anche Margherita Vicario ha la domanda lei con la sua classe e cosa ha la domanda ha detto no io non ce l'ho però ce n'avrei una e ho scoperto che alludeva a quella però non la posso dire perché non è mia se posso ha detto che si tratta di una trilogia l'ha chiamata però l'ha chiamata proprio la trilogia della merda sì vabbè adesso allora allora la cosa è questa non si capisce perché sia così poco come dire sfruttato come ordigno comico perché perché è una cosa che esatto perché è una cosa che riguarda tutti certo è una prova contraria e ognuno di noi ha vissuto un momento di imbarazzo e comunque gli è scappata quando non doveva succedere veramente e questa cosa però c'è mentre forse perché l'ha fatta talmente bene Peter Sellers in Hollywood Party quello quando gli scappa la pipì che si contorce mentre lei gli canta una canzone di merda per 20 minuti che lui sta morendo e questa roba qui invece non viene utilizzata forse ci sono alcuni film che non conosco qualcuni filoni che hanno attraversato questa comunque mentre adesso capite perché la mia compagna non è voluta venire perché quando io le ho detto guarda gli ho fatto vedere il video di Paolo Calabresi gli ho detto guarda loro vorrebbero che io andassi lì un po' a integrare un po' sostanzialmente e lei mi ha detto ma cioè vai a parlare di merda guarda non solo credo però diciamo diciamo il baricentro è quello lei mi ha detto lo sai che io martedì 20 è l'unico giorno in cui con le mie amiche ci possiamo vedere e doveva venire pure la vicina di casa che mi serviva poi perché quando ho detto questa cosa l'ho condivisa un po' con un po' di persone per esempio e qui so che ci sono dei medici in sala che possono confermare ho scoperto una cosa secondo me fondamentale cioè il verbo ponzare ponzare ponzamento allora correggetemi voi la scienza qui dentro allora voi dovete sapere voi non sapete cosa significa ponzare perfetto ve lo dico io ponzare è lo sforzo che si fa per evacuare portato a livelli celestiali è lo stesso sforzo che porta a far nascere una creatura ma ma si può utilizzare lo stesso verbo ok per cui in questi giorni è tra amichetti e cose tutti i messaggini ponzo ergo sum immagini terrificanti dell'isola di ponza capito cioè il cui pare che è pericolosa l'isola di ponza ma i dottori in sala confermano che esiste il verbo ponzare e ho detto la definizione è quella perfetto per cui poi adesso non vi voglio invitare però ecco ve la do cioè se in queste vacanze di Natale voi sentite il bisogno di adesso ieri mio amico maschietto ho ponzato un soggetto si può ponzare un'idea si può ponzare certo un piatto certo come dire però però ecco facciamolo conoscere il verbo ponzare perché lo si può applicare non solo a diciamo questa roba qua per tornare alla storia che ha raccontato malissimo Paolo Calabresi la prima cosa che ha sbagliato Paolo Calabresi ha detto che questa riguardava me e una mia fidanzata del tempo non avrebbe avuto senso perché la mia fidanzata avrei avuto un minimo di confidenza per dirle guarda amore vai a comprare il giornale perché allora io alla fine degli anni 90 sono dovuto stare fuori dall'Italia era meglio diciamo per un po' allora stavo in Belgio questo non diciamo altro in Belgio vado a fine in Belgio vado a fine in Belgio e dove vado a dormire per cui si rimedia una tipo lontana cugina della moglie di mio padre che era una ragazza che lavorava serissima al Parlamento Europeo Ligia si faceva un culo così con gli occhiali timida e cosa che abitava in una casetta a Waterloo cioè che fuori Bruxelles una stradina nella campagna ci siete mai stati a Bruxelles il clima di Bruxelles non è non sono le Hawaii cioè il cielo è verticale cioè ti viene sempre addosso da tutte e due le parti comunque io passo perché poi nasce e finisce guarda io sto guarda come si chiamava Elena tipo guarda veramente tre o quattro giorni il tempo di organizzarmi poi poi me ne vado e io sono stato due mesi sono stato due mesi a casa sua e e lei lavorava tutto il giorno anche il sabato e e io non facevo niente io stavo a casa sua a guardarmi i film a leggere e a farmi le canne solo questo facevo quando lei tornava a casa non ci crede c'era una puzza perché la casa era piccola era piccola aveva solo un piccolo soppalchetto dove c'era il suo letto e il bagno unico bagno della casa allora dopo una quindicina di giorni domenica diluvio universale ma non come diluvia qua come diluvia in Belgio cioè tu non vedi niente è giorno ma non vedi niente 8 di mattina perché io mi sono sempre svegliato presto lei si sveglia la domenica perché proprio vuole prendersi il soggiorno tutto per sé e mi dice gentilissima Pietro io adesso sto apro l'acqua del bagno mi faccio il bagno e cosa se tu devi usare il bagno vai e poi così poi faccio tutto mi faccio no 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 tranquilla tranquilla non ti preoccupare vai vai tranquillo per cui acqua bagno cosa io vedo arrivare il vapore mi faccio un caffè mi faccio un caffè con la macchinetta e succede il fattaccio cioè vengo mi arriva proprio una coppa di scimitarra qua qua e e lì che fai cioè lì devi trovare un modo di salvarti e apro la porta e c'era il diluvio universale universale cioè una cosa non era possibile andare da nessuna parte non ti potevi spostare non c'era nessuno niente per cui rapidamente perché il tempo è poco perché il tempo è poco io dico allora calcolo allora io adesso posso fare la cosa seguente o vado su da lei busso le dico esci dal bagno che ti sei meritata in questa settimana terribile di lavoro e stai un po' fuori e intanto già ti bagni l'accappatoio e io sfondo il bagno nel quale tu dovrai rientrare poi da cinque minuti e passare la tua oretta felice ok oppure e mi dico no questo non è accettabile non me lo perdono cioè non lo puoi fare però l'alternativa era rapidissima e per cui devo farlo devo farlo devo prendere questa devo ponzare devo ponzare per cui siccome diciamo dal suo palco il suo palco si affacciava sul salottino l'unico luogo che non veniva visto dal balcone diciamo dal suo palchino era la cucinetta per cui io mi ricordo non so perché aveva comprato la gazzetta dello sport è una cosa incredibile per cui io decido parlando con lei dicendo allora tutto bene capisco che non c'è altra soluzione di farla in cucina e farla in cucina con la gazzetta dello sport per terra con un piede su una sedia e con una sul lavello per cui adesso adesso lo posso fare perché sono però vestito però sostanzialmente la posizione era una cosa capito era una cosa brutta da vedere perfetto perfetto a uovo e sempre col terrore che se questa mi sbuca tu cioè allora vi dico voi a casa cioè voi avete un ospite un amico oppure non lo conoscete bene però è un amico è un amico di un amico ok voi a un certo punto uscite dal bagno la domenica mattina e lo vedete in cucina di casa vostra appollaiato rosso rosso cioè come reagireste ok questa questa è andato bene è andata bene perché io sono riuscito a fare tutto ho fatto il pallottolone e cosa e ok e questa è già una bellissima storia ne sono uscito a testa alta da questa cosa qua però mettetevi nella situazione stacco e questa si è dimenticata Paolo Calabresi stacco otto nove anni dopo Mattia Torre mi chiama tipo alle dieci e mezza di sera sai quando ridi che ma un minuto e mezzo così perché dice io sono a tavola a Perugia e ho capito che di fronte una ragazza una donna che a un certo punto mi ha detto che ti conosceva e gli ho detto ma sì ma dove l'hai conosciuto eh a Bruxelles allora io ho detto aspetta aspetta ma ma cioè nel 97 quando era sì 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 perché ma come era carino ma come era gentile come era educato perché l'ho ospitato a casa mia per cui Mattia stava di fronte a lei a tavola vedendo la mia immagine così mentre lei gli diceva che persona squisita ma che signore ma che principe ma che bella persona questa è diciamo l'epilogo bellissimo della bellissima posso fare una domanda ci mancherebbe allora tu stavi in quella posizione che comunque eri in equilibrio se ho capito tra il beh sì stavo per stare lontano certo cioè perché volevo evitare che la ponzatura cioè di non avere i piedi per terra certo per cui è stata pensata ponzata ponzata ma quindi cioè non era se era dopo il caffè non era proprio solida no è è per quello è capito è no certo facevo l'aquilotto per quello perché avevo capito che e quindi sei riuscito comunque nonostante questa difficoltà a non lasciare tracce ok non ero tanto alto cioè non ero cioè in realtà era una cosa non ero tanto perché poi andavo giù ai tempi ero ai tempi ero ancora quindi anche questo malloppone era come dire umido eh era umido questo malloppone comunque la gazzetta c'ha tanti fogli c'ha tanti fogli ok certo certo anche me li sono giocati tutti ah ok 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 buste però anche ansia un sistema di buste c'era beh sì perché beh te credo anche perché poi ho fatto corrente con la porta che infatti si è allagato l'ingresso perché poi ho aperto la porta della cucina perché mi sono anche detto pensa se viene e dice ma che è successo cioè che comunque senti una puzza che è quasi meglio se mi becchi perché sennò pensi ma che è ma che è alle 8 di mattina ma che è successo mentre mi facevo il bagno per cui anche quello c'era stata anche questa cosa questa cosa quindi delitto perfetto cioè non c'era non c'era traccia niente perfetto però bellissimo che capito questo mio amico che la sapeva a memoria questa storia che a poco a poco capisce e mentre lei gli parlava gli diceva che bello che era vede me perché poi naturalmente questa posizione l'abbiamo fatta tante volte diciamo per gioco abbiamo ponzato tutti insieme bellissimo questa penso la storia più bella bellissimo bellissimo di sempre che è stata raccontata in questa rubrica secondo me a questo punto mi viene da chiederti perché trilogia però se se ti va non lo so eh? non è una trilogia quindi se ti va sì ma adesso bisogna chiedere anche agli astanti perché adesso avete sentito la compagnia dell'anello adesso c'è le due torri e il ritorno del re no perché c'è un altro mio collega che è molto esperto in materia che con cui condivido questi racconti che è un attore fantastico che se volete anche chiamare diciamo sul palco a parlare di queste certo vogliamo dire chi è? no no non lo vogliamo dire avevamo no sì non lo diciamo non lo diciamo si chiama Valerio però si chiama Valerio la buttavo là no ce ne stanno un po' è pieno così esatto è di Roma cerca la mia età però vabbè però anche lì ce ne stanno una cifra ce ne stanno no posso dire solo la seconda al volo vai va benissimo c'era mio padre a Firenze era il maggio faceva caldo maggio caldo e dovevo andare a mangiare con lui lui stava là lo riusciva a beccare per cui parto i pantaloni la camicetta e prendo il treno così fresco parto e vado a Firenze vado a mangiare da mio padre con mio padre e lo saluto e mi bevo il caffè con lui prima e mi bevo il caffè con lui risalvo in treno sempre con la camicetta e i pantaloni e a un certo punto verso chiusi a chiusi mi bevo un caffè perché sempre lì poi l'innesco certo e succede questo cioè e parte il dilemma perché la cosa bella è il dilemma cioè io la faccio cioè inizia a contare inizia a respirare piano poi senti la gocciolina poi poi dici se mo' becco qualcuno che te saluta e ti abbraccia perché anche la cordialità uno che mi fa l'autore a me è capitato una volta non ho ponzato però che stavo per morire perché io c'avevo una mia tecnica che andavo a fare colazione al bar passavo da questa farmacia facevo il giro dentro con l'aria condizionata e andavo a casa che era una cosa proprio chirurgica perfetta però ogni tanto mi capitava che tra la farmacia e il portone beccassi qualcuno era tutto guarda era sempre così allora torno bevo questo caffè e dico ok perfetto ce la faccio chiusi se può fa mi avvicino Tiburtina gravissima Tiburtina è proprio Tiburtina è tipo Peter Sellers cioè che non potevo più stare seduto ma era proprio una cosa tipo così così veramente così l'inizio di termini quando vedi allarme rosso cioè allarme antiaereo è una cosa per cui non posso pensare altro che correre corro chiudo bomba il treno si ferma non c'è la carta igienica non c'è la carta igienica dramma dramma al mandrione dramma al mandrione la tensione è alle stelle ha lasciato queste sono le masterclass masterclass di ponzatura cosa avreste fatto capisci la situazione sei chiuso lì dentro hai scoppiata la bomba e il treno si è fermato e non c'è la carta igienica tu però sei nella tua città di arrivo eh sì allora sacrifichi gli indumenti e corri a casa per forza io ho sacrificato una camicia peraltro fantastica celeste però attenzione poi ti scendo purtroppo mi ha detto pure male che non ero in testa il treno in coda a torso nudo cose sono andato dritto e ho comprato la mia prima e unica maglietta è Love Roma perché era la prima che ho trovato col cuoricellone però mi sono fatto tutta la banchina con le mani in tasca hai tante un po' soddisfatto ma e poi e poi comunque fai cioè succede è brutto pulirsi con una camicia comunque comunque è una cosa che ti rimane cioè sai quando vedi una cosa e poi e poi comunque apri perché guai cioè se me becchi anche perché cioè no vabbè però quella cosa della camicia ancora adesso che me la sono ricordata è un'immagine terribile di dolore e però poi Spavaldo sta passeggiata mano in tasca per fortuna era prima era prima del medico infamico infatti perché lì lì è proprio qui brutto no pensa se te becca un paparazzo paparazzo lì sai andava avanti questa io se il Monti esce nudo a torso nudo da un frecciarossa ma ecco e lì subito ho capito gossip chi c'era con lui chi c'era apre no guarda ti do un milione se non apri quella porta va bene dai bellissimo una camicia una camicia domanda pratica a quanti strappi corrisponde quanti strappi corrisponde cioè di carteggiare cioè quante volte puoi usarla quante spessa no quante volte puoi usarla per pulirti non mi fate parlare e poi dove cioè dove finisce la camicia no io ti dico solo a un certo punto ho organizzato una cosa di questo tipo bellissimo bellissimo stupendo e forse per godermi tutte le maniche forse su questo aneddoto inarrivabile aneddoto poi in questo vabbè questo è un gioco di parole del medico in famiglia un altro applauso per favore Pietro Sermonti bellissimo grazie scusate un trionfo bellissimo ricordatevi questo è l'ultima dell'anno fate un applauso anche a Stefano Rapone a Stato a Ottavio a Enrico a Leonardo Stefano a tutto il mandrione a voi che siete venuti e ci vediamo nel 2023 buon anno buon anno buon anno grazie ci vediamo alla prossima puntata ciao ponzate forte ponzate forte grazie a tutti Grazie.